Segnali incoraggianti dall'edilizia in provincia di Teramo. Dopo otto anni di segno meno che hanno significato una perdita della metà della massa dei salari, 600 imprese in meno e 3.000 operai senza lavoro, il settore costruzioni torna a crescere con un incremento dei salari del 5%, un dato interessante se unito alla ripresa delle compravendite del settore immobiliare più 2,1%. La Cassa Edile auspica che la tendenza si confermi a fine 2016, ma finché questo avvenga, spiega, bisognerà accelerare su tre punti fondamentali. Codice delle appalti, che necessita di linee guida e decreti attuativi, spesa dei fondi per la ricostruzione post-sisma e avvio degli investimenti contenuti nel masterplan. Noi ce lo spieghiamo e stiamo forzando da diversi anni che si parte a regime perché ci sono diversi centinaia di milioni di ricostruzioni, tra private e pubblico penso che si tocchi 300 milioni, tra cratere e fuori cratere e enti pubblici. Proprio la ricostruzione che potrebbe insomma dare una grossa mano, una grossa spinta a un settore che è stato veramente distrutto dalla crisi. La nostra provincia è l'unica salvezza, questa piccola ripartenza che c'è stata è stata dovuta anche al rinvestimento degli enti pubblici, hanno rinvestito sulla sicurezza delle scuole, sulla reggimentazione delle acque e anche sulle impianti di depurazione. Però chiaramente per la nostra provincia la manna dal cielo sarebbe che partisse a pieni voti la ricostruzione. Aspettate qualcosa in più forse anche dal masterplan della regione? Sì, nel documento l'abbiamo citato, adesso non so la tempistica del masterplan, ma anche lì ci sono circa 100-120 milioni che dovrebbero arrivare in provincia. Ci auspichiamo che la cosa avvenga.